ragazzi bentornati sul canale in questo video oggi andremo a fare un duello di incredibilis abbiamo qualche duello esclusivamente con il genduriona spero vi divertiate e soprattutto che il vostro livello di incredibilis e di sale si alzi in maniera esponenziale in maniera tale da rendere me un bimbo felice buon video il nostro primo round contro una valkyria e questo incredibilis videos alberic heavy heavy perry ok la sweep non è andata molto bene ok oh sì oh sì ho sbagliato oh 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 eh la tipa non l'ho visto vabbè no ma la customizzazione di base non mi sembra molto avvezza la valkyria si può dire questa cosa che ho detto vabbè non importa ok va bene abbiamo iniziato with the bot 2 2 dai potrebbe essere peggio io a notorietà 2 la usavo già decentemente almeno dai novembre non camminare oh di nuovo io riprovo scusate di nuovo ce la facciamo boom incredibilis raga incredibilis finalmente ragazzi ci proviamo a fare un video del centurione no perché sennò sennò non avrò mai il video con il centurione e basta dai vieni qua che figo è sto centurione che ho fatto così è carinissimo gb no heavy bene il ccs ah ho provato a schivarlo pensate cosa è successo no no ma perché ma è forse inschivabile quell'attacco cavolo solo che non si vede la cosa vabbè bello ho giocato malissimo io ci sta c'era super battibile solo che due volte mi ha fregato con quella cosa dello scudo e non mi ricordo se è inschivabile sta partendo tutto qua dei cavi ok fulli no e questa è la tua condanna a morte pollice verso sì no sì o no no dai oh che bello da quanto che non vedevo un conqueror allora dovrei aver tolto il registro degli eventi quindi andiamo diciamo da dio bello vedere che è sempre molto punibile quel bash ok ok perfetto non c'è più il registro degli eventi in basso a sinistra quindi non si vedono le schifezze bello wall splat comunque molto godo guardate pensavo sarebbe morto pensavo non avesse abbastanza vita crepa ok primo round è andato non è bravissimo nel senso non è bravissimo il personaggio è stupido quindi ovviamente se si mette solo a fare shield bash in in delay cioè aspetta prima di dare l'animazione ma non ve lo voglio spiegare perchè dovrei spiegarvelo spiegarvelo perchè così poi lo fate va bene questa hard feint non ti è piaciuta se ragazzi mi ha appena fatto un vaffanculo stronzo stronzo cosa succede ah si ok si è tolto quello va benissimo ok 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 che maledetto mi ha tolto la punizione perchè lui mi ha colpito con un po' di bash e anche il mio attacco colpito quindi chiaramente la sua animazione annulla la mia a volte succede chiaramente è ingiusto che sono anche tanti i miei danni sono 25 più 35 sono 60 70 danni allora io e lei dobbiamo parlare qua dietro non so se c'è un muro questa mappa fa schifo per il centurio aia te affliga cosa ho fatto perchè si che palle ho che palle ho sarà punibile prima o poi qualcosa questo tizio eh si infatti non mi ha preso aia ok in teoria vinciamo no 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 eh ha fatto un bel perry lui certo zero un'utilità sul conqueror vabbè sparta catiara sto credo sia un clan non penso sia italiano non lo so non lo so però vabbè è pieno di gente che ha quello stemmino la però c'era anche scritto sparta quindi o qualcosa di simile potrebbe effettivamente significare eh la la smoo clan cosa perchè la risposta al perchè è perchè funziona allora dai bello ok sfortunatamente per lui non sfortunatamente per lui non dai oh si questo amico mio è tutto per te tutto per te bello tutto per te bene bene allora l'ultimo ultimo non lo so in realtà sette minchia paura mamma mia l'ha mancata in entrambi i casi è stato e vabbè allora dillo ok no non è garantito là ti prego ti prego bleed ok ok buono 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 stavo stavo fottendo tutto quanto in quel momento la in cui non ho non ho fatto il pugno quindi ho deciso di fare quello leggero e basta comunque ragazzi abbiamo avuto una tre volte sfiga un gb lontano cioè due pesanti che non raggiungono l'avversario per motivi e un wall throw non non esattamente felice questo invece è decisamente molto più contento facciamo anche un po' di emote e via capisti sfigato dovreste vedere la mia faccia ma prima o poi succederà quindi guardalo guardalo spero abbia capito la sottile ironizzazione per la quale forse andare a farfalle non è così utile cioè nel senso cosa volete di più guarda guarda qua ho anche calcolato alla perfezione un pesante all'interno dell'attacco a zona dai 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 incredibilis signori ci riprova ci riprova stavolta ha tirato fuori le armi pesanti eh guarda qua eh finchia finchia il gioco un po' di reattività per favore pure eh ok ok ci sta ci sta eh poi ho 25 vabbè che non sono così tante perché ha detto no cioè nel senso mi hai battuto cioè mi hai battuto mi hai battuto mi hai umiliato ecco con la sciamana adesso adesso io adesso io prendo il warden e ti faccio solo le spallate questo è quello che lui ha pensato secondo me vabbè raga noi non mi perderei decisamente d'animo proverei comunque qualcosa ok pulito questo secondo round flawless non ci ha neanche toccato ah che figo che sto centurione mi piace un sacco tra l'altro voglio riproporre l'estetica del centurione che c'è in un video di una vita fa tipo un anno fa in cui usavo il centurione che mi era stato spiegato da un ragazzo un ottimo player di centurione come effettivamente giocare l'eroe e quindi ok ho fatto l'attacco a zona ok ho fatto l'attacco a zona ti sto dando un sacco di opportunità per il ccs perché non lo vuoi fare? non hai 25 in autorità su qualcosa riposo ha la faccia però nooo no potevi non finirlo la stamina secondo me Ragazzi qualcuno mi spiega Perché lui ha recuperato la stamina Prima di me Ma dai Avevo così poca vita Guardatelo Sta ti beggando ragazzi Sta cacando Si sta sforzando per cagare Allora L'euro Minchia che culo Option select Non è vero non è andata molto bene Che sfiga Ok Molto buono qua Mamma mia Ah dai recuperiamo la sua stamina Secondo light Secondo light Non lo faccio mai Mai non lo faccio con l'attacco Perché è inutile Però È andato Perché ho detto Ma è entrato Come Dai man Man Mamma mia Guarda Guarda E purtroppo qua non c'è Ah Ci picchia L'ha preso Gli è andata bene Gli è andata bene No Ragazzi ho fatto una cavolata Ho tolto il dito dal Abbiamo perso No 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 Abbiamo perso questo Play like a bitch Die like a bitch Oh yeah mate Oh Qui siamo Allora Abbiamo 3 più 1 Un bel bonus Di clip Sono stati dei buoni duelli Come avete visto Il tizio per ultimo Alla fine Si è Ancazzato E mi ha scritto Anche cose Crudelli Che mi hanno Offerito nel cuore No Dai a parte gli scherzi Ci becchiamo Al prossimo video E See you